Oggi perché qui all'Agenzia Rientrate state andando? Lei lo sapeva che da quest'anno gli interessi legali sui ritardi per molte tasse saranno triplicati? Ah, addirittura, no, non lo sapevo. Sempre peggio, stiamo andando, non c'è più religione, non so dove andremo a finire a questo punto. Insomma, smemorati e ritardatari, attenzione perché pagare oltre i termini previsti, multe o tributi, quest'anno costerà di più. Il Ministero dell'Economia ha infatti alzato il tasso degli interessi legali, dallo 0,3 allo 0,8%. Mario, ad esempio, nel 2017 si era scordato di versare IMU e IRPEF per un totale di 15.000 euro. L'interesse legale ammontava 15 euro, salendo a 45 nel 2018 per arrivare ai 120 euro di quest'anno. Per mettersi in pace con il fisco tramite ravvedimento operoso prima dell'arrivo della cartella, insomma, Mario su 7.000 euro doveva pagarne 7 di interessi legali, mentre oggi dovrà tirar fuori dal portafogli 56 euro. E non si salvano neanche le multe. Per una contravvenzione di 200 euro pagata in ritardo, gli interessi legali erano di 20 centesimi nel 2017. Nel 2019 Mario dovrà invece sborzare un euro e 60. Sì, ma ci sto attento da oggi in poi. Se no, ci sono i nostri, tutti noi.